Buongiorno a tutti e oggi parliamo di un grande campione, il nostro amatissimo Gigi Riva, ma subito vi mando il servizio. Ecco sto scendo di sera, l'uomo con le mani in tasca, i pensieri gli fanno dietro, schiena dritta, espressione fiera, meteo minaccia burrasca, ma lui non arretra di un metro, lui. L'uomo in questione è un mito, non gli importa più di tanto, da dietro agli occhiali sono il suo sorriso incupito e queste parti ne fanno un vanto, ma lui pare ancora la scena muta. Eccolo ancora qui, qui dove ha deciso di stare, perché la coerenza una volta, son due colori da domare, ecco ancora qui, posso voluto camminare a Capocchino. Viva, arriva, viva la gente, che come lui non cambia bandiera, la maglia si lava al mattino e si rimette in partita la sera, viva, arriva, viva il destino, viva l'uomo che non chiede niente, non chiede niente. Eccoci qua in studio e si sono riuniti tantissimi artisti e questa mattina abbiamo Pino Montalbano e Gigi Acquas, ciao, benvenuti, buongiorno, ciao Maurizio, buongiorno a voi. Ecco, una canzone dedicata a Gigi Riva con voi artisti riuniti, ecco, parlami un attimino come è nato questo brano per Gigi Riva, Gigi. Io sentivo il bisogno di scrivere qualcosa sulla coerenza, ma mi mancava un personaggio, avevo pensato anche a personaggi della storia, Gandhi, che ti posso dire, eccetera. Poi ho detto, ma sì, cerchiamo un personaggio nostrano e mi è venuto in mente Riva e assieme a tutte le immagini che nella mia mente si sono fissate nel tempo, lo scudetto, Riva che cammina per strada a Cagliari con le mani in tasca, le magliette stese ad asciugare che sono poi frutto di lunghe chiacchierate con Sandro Camba che è uno degli amici più intimi di Gigi Riva. Quindi ho voluto fare un dipinto sull'uomo, sull'uomo che per denaro non si è rimosso dalla Sardegna. Perché io so che all'epoca è stato offerto anche un ingente cachet e qua ci può aiutare il tiro. Allora, la Juventus gli aveva offerto dieci giocatori a scelta. Dieci giocatori a scelta. E lui non è partito.